Buongiorno a tutti i cini che non hanno contenuto Blur nel titolo con emoticon di tristezza di Evo Da me da me non ci vogliono più andare Non vogliono più fare le cose insieme Non per cattiveria per tutto il discorso di essere associati a un altro streamer E via dicendo Se so fare meglio il vostro lavoro nel senso che dovreste dire queste cose Scherzando ovviamente Lo sapete di chi sto parlando Però poi Scusa No perché nel senso che poi non è che si va a litigare Cioè e qua non può più streamare nessuno con Blur Per l'associazione da streamer E poi però state nelle live di Rubino e di Greenwald Ma allora posso permettermi di dare un consiglio È meglio avere associato il mio nome E facciamo persone che dicono Ah vedi i numeri perché li fai Che onestamente avessi associati Non lo so Un 73enne Scusate se non devo dire l'età di Rubino L'ho detta E boh Lo tendono a fare Ecco terzo Ma regà Regà Guardate che io non è che A 73 Ma che stai a fa' Ricordate che i squali Stanno arrivà' Ciao a tutti Belli e brutti E benvenuti in questa nuova puntata del Cerbero Podcast Bellissimo Ciao a tutti belli e brutti Vabbè però è un alternativo Così mi è venuto così Ce sta Devi fare come un equilibrista Che sul mondo sfida il crollo Delle sue capacità Ma questo è dedicato a te E' aperta Alla tua innocente goliardia Immensamente Maria Ciao ragazzi Sì Come va Come va Siamo carichissimi oggi Ma perché Ma anche no Ma io sì Io sì Ma anche no Allora sono Ok Sono Ma sì Tutti carichi Wow Ma sai che c'è Che è tipo un'auto illusione Esatto Cioè devo dirlo a me stesso Però poi effettivamente Diventi così Cioè ti imponi quel ritmo Capito Si può dare la carica vicendevolmente Ed è bello Esatto Esatto Anche solo dire Dai che ce la fai Dai ragazzi E poi muori dentro Però Dai cazzo I discorsi motivazionali Da spogliatoio Dei classici film americani Allora ragazzi Cos'è successo E' tornato Anche su Twitch Ovviamente L'Iccardone nazionale Dopo La comparsata Anzi la ricomparsa Su Instagram Nei giorni scorsi Dove Ha annunciato Il rientro a pieno regime Grazie a 98 Nel ruolo Di social media manager Con un'azienda Dietro E' tornato anche Su questa piattaforma Perché Non era bannato lui Non era bannato Sì ma è una ferma Che viviamo nella timeline Più goliardica Comunque Siamo in quella Che fa ride Sbagliata Sbagliata E poi Quello Dipende Come la giudichi Ci sarà anche Una timeline Dove E' tutto serio Cioè dove va Drammatico Tutto molto più Sì sì Tutto parlando in doppia Tutto over act Sì tutto Sì benvenuto Diventa tutto tipo Il podcast De casa dei Tutto in bianco e nero Tutto enfatizzato Twin Peaks De return Tutta serietà Senza spazio Per la risata Di spazio Per il riso In realtà ce n'è sempre Quando c'è Liccardo Però Va detta una cosa importante Non Rinizieremo il discorso Io e Dave Poi ovviamente Simone Sì perché non c'era Fatto a mezzogiorno di fuoco Il discorso devo fare No no Stavo per dire Che noi abbiamo fatto Una premessa Un cosiddetto Cappello introduttivo Perché ovviamente E' tornato Liccardo Ma non è tornato Come intrattenitore E E' successo più volte Ce ne siamo sbattuti Perché faceva le sue live Sti cazzi No Quella clip che abbiamo Messo prima Mi ha molto intrattenuto Cioè Quella sorta di Questo è in dubbio Questo è in dubbio Ma infatti il discorso è questo Nel senso Fa simpatia a tutti Ha mostrato anche Il suo lato umano Però Però Comunque si sta Ripresentando al pubblico In una veste Anche professionale Non solo da Goliarda Ma chi gli dà 500 euro Ma chi gli dà Ma secondo me No no Lui dà 500 euro E quella è la cosa divertente Allora Però se gli porti qualcuno Gli devi portare a qualcuno Che vuole fare il contatto a lui E ti dà 500 euro Se gli presenti un cliente Ma scusa Ma facciamo tipo Che lui porta a me Io porto a te Se Simone Santoro Che è la sua nemesi più totale E ora si unisce a lui Mi deve dà almeno 5000 euro Beh sì Io devo Sarebbero un statement gigantesco Eh Devo mettere la casa in sicurezza Per Piwi Cioè un po' di spese A Caldaria Potrebbe torna utile Infatti No ma comunque vabbè In caso La versione estesa De questo discorso Recuperatelo Mezzo giorno di fuoco Abbiamo fatto prima Però Il fatto è questo Noi siamo Comunque Sull'attenti Sì certo Perché Ripeto delle battute La simpatia Adesso lui si sta presentando Con delle promesse Dicendo Io ho iniziato Un percorso professionale Offro questi servizi qui Però al momento Vuole fare Tipo un reset Della sua immagine Come ha provato a fare Svariate volte Mi sembra proprio L'ennesima L'ennesimo tentativo Però veramente Cioè Allora Pure chi lo conosce Cioè lui Secondo me Non comprende Che Tutti quelli Che lo conoscono Attualmente Dato che comunque È sparito Non è che si è fatto conoscere Nel frattempo In altre Non peraltro È tornato all'ovile Ma nell'ovile Tutti sanno Quindi inutile Che uno tenta Di Cambiare la Narrazione La narrativa Cioè quindi Ma lui non la cambia Lui dice In questi sei mesi Di assenza Ho studiato E mi sono creato Delle competenze Che pure questo Ovviamente C'è sta gente Che per far questo Percorso professionale Non è detto Che poi serva La laurea Però Si fa magari tanti O se le laurea Magari in marketing E si fa tante esperienze Oppure Semplicemente Se non fa degli studi De settore Si fa anni Di esperienza Si però Obtiene un portfoglio Dei successi Dal punto in cui Era arrivato Non bastano Sei mesi De corso E questo Sono troppo pochi Ma anche per chi È in tonso Sei mesi Sono pochi Pensa per chi parte Da quella partenza Là Eh capito Quindi per me Sarebbe proprio folle Che chiunque Lo stia seguendo Adesso Prenda diciamo In considerazione Di investire Il proprio sudato Danaro Perché comunque Penso di poter dire Proprio tranquillamente Pensate bene A come spendete I vostri soldi Eh beh Questo vale in generale Come frase generale Sì 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 Ma comunque Ci sono live Con milioni Di visualizzazioni Proprio all'interno Di quella bolla Di cui parli tu Quindi è molto difficile Se lo seguite Perché ve fa ride Perché è un personaggio Al quale vi siete Inevitabilmente affezionati Che è super comprensibile Come cosa Ok Nel momento in cui Arriva il soldo La questione cambia A meno che non sia Per fargli un regalo Se voi lo seguite Come uno stream Fate una donazione Su Twitch Una donazione Di qualsiasi forma Sub Oppure così Se lo volete aiutare Perché vi piace Come intrattenitore Tutto è ok Però Poi diventa un problema Sia De lui che offre i servizi Ma sia De una persona Che gli ha visto Fa tutto sto percorso E l'ha seguito dall'inizio E oggi fa Ma sai che faccio? Io gli ho dato proprio 500 euro Per un percorso E poi ci chiamano E fa Ma ho truffato Ho mandato dei soldi Perché a quel punto La colpa È 90% Dell'eccardo Ma poi diventa Anche 10% Un minimo Tua Poi infatti I salotti iniziali Che abbiamo fatto Era perché Era comunque Una cosa nuova Lui si era presentato Come social media manager Di Cecchi Paone E nessuno lo conosceva Sul web E anzi Stava cominciando A procacciarsi clienti Esattamente come Matteo Saba Quindi Assolutamente sì Tant'è che poi Noi abbiamo deciso Di abbandonare completamente La questione di Riccardo Perché era Ormai diventata Diciamo Ovvia Poi appunto Lui ha dichiarato Di essersi dedicato Completamente Ad un altro lavoro Io l'ho detto anche prima Ho consigliato personalmente Ma credo anche tu A Riccardo Di Proseguire O una carriera Semplicemente Da intrattenitore Sul web O Fuori dal web Perché comunque Il rapporto Non mi sembra molto sano Cioè lui è Estremamente Inebriato Dal web Dal seguito 800 spettatori Senza avvisare nessuno E lo capisco Ma questa cosa poi Crea tanti danni Soprattutto a lui In questo momento Proprio perché Come abbiamo detto Ormai è palese Il personaggio Ma Ogni volta Ci ricasca Lui stesso Perché poi In questa equazione Qui succede Che molte persone Si approfittano Anche Di questo suo approccio Malsano al web E fanno pure De peggio Cioè lo stalkerano Rompono i coglioni A persone accanto a lui Alla sua famiglia Alle sue ragazze Perché vogliono Suscitare Quelle reazioni Esatto Gli fanno proprio Uno stalking Tirano fuori Dei suoi dati personali Si fingono amici Per diventare Moderatori Farlo bannare Cioè Di tutto Quindi Quanto potrà essere utile Questa cosa Soprattutto nel momento In cui ti presenti Come Nuovamente Un professionista Detto ciò E' importante Anche sottolineare Il fatto che Si continui A Fare cose Comunque Non nella maniera Corretta Perché adesso Vedremo degli screen Poi vedremo anche Una parte della sua live Che è stata fributata Ieri Ci sono ancora Tante tante Informazioni mancanti In relazione a ciò Che lui sta proponendo Quindi Adesso attendiamo Perché magari Aperto da poco Questa nuova agenzia Ai tempi tecnici Lo sappiamo pure noi Burocrati Cernotaglio Agosto Non lavora nessuno Ok però Nel momento in cui Tu mi dici Adesso metto anche Le storie Te posso Già un attimo Interrompe Scusami A sto punto Apri a settembre Quanta gente Conosce Guarda C'ho un progetto Ma siccome adesso Non c'è sta roba A disposizione Vedrete Non vi spoglio niente A settembre Quando sarà tutto pronto La gente fa così Quando apri una cosa Dice Intanto Vi dico i prezzi Scrivetevi in privato Già possiamo fare i contratti Poi potranno essere Ratificati in seguito Perché noi Non tagli in lavoro Apri dopo Aspetti un mese Sì infatti Una persona Con lungimiranza Avrebbe fatto così Una persona che Vuole farsi Vedere Alla base Ci vedo proprio quello Vuole ripulirsi L'immagine Vuole farsi ammirare C'è sempre il motivo Per il quale Ha fatto tutto Quello che ha fatto Fino a mo' Credo All'inizio Credo proprio Come fonte Di reddito In realtà Prima delle nostre live Sì però è stata La sua vanità Sì ovvio Ma come Saba Poi c'è qualcuno Che ha ipotizzato Altro Anche in relazione Proprio ad un'effettiva Necessità di compenso Ma queste sono speculazioni Che non ci interessano Quello che possiamo dire È che comunque Appunto Lui sta offrendo Delle cose Che adesso leggeremo Però Al momento Qui non si è vista Né Una visura camerale Della azienda Una Partita IVA Contratti Ha fatto Dei fax simile 200 contratti pronti Non si sa E quindi Mi auguro Insomma Che tiri fuori Un sito web Con tutte le informazioni Del caso Il famoso GDPR Contratti Anche perché Già qualcuno Lo sta contattando 99,9% Semplicemente Per trollare Anche una scimmia Ammaestrata Alla quale Dici gli step Che deve fare Può aprire Un'azienda Avere una visura camerale Però a quel punto Sei però responsabile Sei in regola E se Operi In maniera non lecita È tutto in chiaro Quindi nel momento In cui c'è un'azienda Ma pure se lo fai Senza un'azienda Ancora peggio Sì sì certo Poi ovviamente Ripeto Ci sono dei problemi Sempre dal punto di vista Della comunicazione Nel momento in cui Vendi un qualcosa Lo rivediamo Non puoi dire Sono il migliore di questo Lasciando perdere alcuni esempi Adesso Entriamo in maniera Uno specifico L'abbiamo fatto vedere pure prima Non puoi dire Io ti garantisco Provini in tv Cioè Se non sei in grado Poi di dimostrarlo Ok quindi Ne ha sparate molte Cioè molte cartucce Quindi lui ha detto Cartellonistica Provini in tv Personaggi noti Influencer Crescite reali Vi garantisco 500 euro Se portate persone Cioè Credo che lui Pensi che Ha fatto delle conoscenze Importanti Durante questi ultimi anni E qualora qualcuno Si iscrivesse A questa cosa Potrebbe Come ho detto Nell'altra live Tipo contattare Omiatol Provarci Provare ma non garantirlo Eh capito Quella è la cosa Lo sai che ha scomodato Il più grande influencer italiano Cabilame No non c'è Sovraletta Tu lui dice Verso Cabilame Nel senso Arriveremo ai livelli Di Cabilame Allora eccola qua Per creare La Liccardo Rosario Digital Marketing Virgola Cabilame Non sarà Il nostro traguardo Ma un punto di partenza È ovvio che non ha detto Abbiamo cabi Però nel senso Non sarete famosi Quanto lui Essere famosi Quanto lui Sarà soltanto l'inizio Cioè sarete molto Più famose Che è ancora peggio Se vogliamo Cioè è più facile Quanti c'ha lui adesso? Ma non lo so Sì l'influencer italiano Più grosso di sempre È impossibile Che è pure peggio Cioè nel senso È più facile Lavorare con cabi Perché lo paghi Certo Paghi cabi lame Certo si può fare Che ne so Fai Una sponsor Con Ceduzzo Ceduzzo ospite No cabi lame Ospite da Ceduzzo Solo paghi È fattibile Far arrivare Ceduzzo Ma anche Cerbero A livelli dei cabi Mi sembra Quanto meno difficile Lame Io lo chiamo lame Vabbè perché fa un po' più ride Lame o lame No me sa che me Lame Io sapevo cabi lame Vabbè comunque O lame Vabbè cabi Cabi Lame è un insulto Cioè lo sai Vabbè scritto con l'h Al suo Comunque Per creare La RL Digital Marketing Cabi non sarà il nostro traguardo Ma un punto di partenza Perché in risposta alla domanda Perché ci hai fatto Attendere così a lungo Qualsiasi operazione Marketing Slash Pubblicitaria Italiana Sarà legata LR Digital Marketing Entro il 2024 Garanzia Soddisfatti o rimborsati R Riccardo Allora Pure sta garanzia Cioè non è che basta la parola Però ok Soddisfatti o rimborsati Fonte Trust me bro Esatto Fidete Poi Altra domanda interessante Sarà possibile vedere i risultati ottenuti dai vostri clienti? Date davvero il doppio dell'investimento? Ma che vuol dire il doppio dell'investimento? Ma che è sta roba? Aspetta Riguardo i risultati Assolutamente sì Sia sul nostro forum Sito che stiamo preparando Sia nei social del cliente stesso Qualora ne avesse piacere Riguardo il soddisfatto E rimborsati col doppio dell'investimento Speso dal cliente Qualora non ci fossero miglioramenti Crescita Esponenziale di notorietà Anche qua senza dati Che cazzo vuol dire crescita esponenziale? Non si sa Di notorietà Ecc Assolutamente sì Sulla mia parola E con contratto alla mano Che vale nulla Ma vi immaginate un cliente scontento Cosa potrebbe fare Alla mia visibilità Ma non è Non è che lo immaginiamo L'abbiamo visto Ma poi scusami Ne abbiamo prove empiriche nel passato Finalizziamo Allora Perché magari qualcuno non ha capito Voglio proprio essere cristallino in questo Allora Io Vado Mi segno Faccio un contatto con la Marra Corporation Marketing Design Stocatsing E lui mi dice Guarda c'è un piano da 500 euro Per la tua crescita professionale Sui social Io do questi 500 euro Fa sei mesi Ce li sentiamo Faccio una marra Ma porco Tu sei un impostore Ma niente Non so che c'è Neanche di un follower Mi devi Il rimborso Perché c'è soddisfatto I rimborsati E lui Non merita Quei 500 euro Che io gli ho dato Mi dà mille Che non si sa D'olipia Cioè quindi è un guadagno Cioè è meglio non cresce Sì è meglio essere insoddisfatto Grazie Fabiolona Carissima È meglio investire Un percorso costruissimo Io do 100.000 euro E sperare che non cresco Per niente Così guadagni altri 100.000 Meglio da Di Norfi E De Saba messi insieme Prima abbiamo detto Che i 500 euro Te li dà a lui Se porti qualcuno Ma anche per iscriversi A 500 euro Non si sa Ha detto Vari percorsi Vari percorsi Per tutte le tasche Certo Eh Vabbè Posso capire Però qua Già parla di investimento Il pacchetto VIP Il pacchetto full VIP Full full VIP No ma soprattutto Sta roba Cioè io questa Non l'avevo letta ancora Perché me la sono tenuta A questa live Investimento Garantito Con mia parola E contratto Già mi mette un po' i brividi Cioè investimento È una cosa diversa Dall'offerta di un servizio Poi la puoi utilizzare La puoi utilizzare In maniera di investito Nel progetto Sì certo Anche in quel senso Però attenzione Cioè se andiamo proprio Nel campo investimento Vabbè comunque Andando avanti La LR Digital Marketing Non avrà sbagli Ne Che cazzo c'è scritto Poché Ne perché Ne farà errori Ne perché Ne perché Ne farà errori Ma che c'è scritto No scusate Sbagli Ne perché Eh siamo un po' autocitato Ne farà errori Ma che c'è scritto Ci saranno più momenti In cui farà Perché Esatto Vabbè Scusate Ma che c'è scritto Ah non è pecche Ah Ne pecche Ah ok Vabbè Allora pensavo Ne pecche E sarebbe stato più bello Se faceva Ne pecche Autocitando Non avrà sbagli Ne pecche Ne farà errori Vabbè Qualsiasi azienda Fa errori Qualsiasi essere umano Però ok Esatto Ma va bene Quindi già È una cosa Non possibile Ok In più In più Aggiungo Che sono felice S maiuscola Di dirvi Che i 200 contratti Pronti di ieri Sono passati a 300 Stasera Che poi pure Contratti pronti Cioè pronto Un vordini E vordi pronto Complimenti Cioè ne posso far pure 10.000 pronti Però Si aspetta un secondo Allora Lo stanno scrivendo in chat Sì l'abbiamo fatto vedere Fallo vedere Fallo vedere È bellissimo Mi sa che non si vede Lusord Vabbè Non aveva Al momento Visto che ancora Non ha cominciato A guadagnare Quest'azienda Non aveva Budget Per pagare un grafico E gli farsi un logo Ad hoc Ad hoc Ha preso In presto Non l'ha rubato Lo possono usare ancora Quelli dellusord Quindi ha preso In prestito Un logo In realtà Avevamo trovato Anche un altro logo Capite Sempre tipo Alexus Però questo è proprio lui Lui cambiato di colore Sì sì Ma due identici Proprio Sì sì È un'interpolazione È proprio luposilano Ma sì Sono quei loghi stock Penso Allora 18 percorsi completi In regalo Ah 500 contratti In 48 ore Pure qua Che vuol dire Cioè stipulati Firmati Quindi Già c'è un'azienda Eh sì Magari non la LR Ma un'altra azienda Cioè c'è Deve essere un contenitore Per questi contratti No Sì sì Gente Gli ha chiesto informazioni Stampati Dice Lui è andato dal tipografo Ha stampato 500 fogli 500 fogli Vabbè Un investimento inizia Quanto avrà pagato Un 48 ore 20 centesimi Contratti Contratti di cosa Chi lo sa Cartelloni E volantini Pronti per essere Distribuiti Ovunque No Sì Dai Ancora i volantini Nel 2023 Aspetta Non ti permetto Di dirlo Perché poi Se avete il conoscitore Se lamenta Il volantino È ancora No Secondo me no Un volantinaggio È proprio una cosa Da rimuovere Dall'età moderna L'unico lavoro È far conoscitore Che lei pure questo Ma sei proprio Una persona Becera dentro Proprio Sfruttatissimi Quei poveri lavoratori Per una roba inutile Che inquina e basta Sporca E io non c'ho manco La macchina Cioè Penso che Chiunque di voi Abbia esperienza Di volantini appiccicati Sulla macchina Praticamente Irrimovibili poi Se piove sopra È il disastro Il volantino C'è il trick Per sbrigassela subito Quando voi fate volantinaggio Poi non appena vi consegno Il pacco dei volantini Dovete Prendere macchina Andare molto lontano Dalla zona Che vanno Diciamo Cos'altro Dovete spargere Un po' in giro Per la zona Dove vanno detto Insomma di coprire In modo che Chi ve l'ha dati Pensi Che alcuni L'hanno buttati Quindi c'è una prova Del vostro passaggio E poi l'altro In blocco Li deve buttare In un cassonetto In un altro quartiere In modo che Quello non ci andrà mai Quindi creazione Di puri rifiuti Così Per l'umanità Il trick per farlo velocemente Ecco Nella casella della posta Ma l'ho già raccontato io Io lo feci una volta Feci un colloquio Per volantinaggio Tutto Poi era certo Ho detto Ma a me che cazzo Andate a naffanculo Ho buttato proprio Il blocco intero In un cassonetto Proprio lì dietro Questo si fa Dovete andare in un altro quartiere Megali sulle basi Eh lo so Era proprio un cassonetto Quelli grossi Proprio Si saranno sparsi Molto greve Il blocco Capito Non sfusi Il blocchetto Completo Ma non è vero La carta da quello Di emergenza Per i lunghi viaggi No ma ripeto Secondo me è un settore Che salvo rare eccezioni È inutile Certo che ne so Collochi per fare L'antinaggio Certo Non è che Spownano Così Nuova pizzeria di quartiere Ci sta Per carità Però in generale Secondo me È un'attività Che ormai Non funziona più Come dovrebbe Anche perché È veramente Troppo inquinante Crea troppo sporco A fronte dei risultati Minimi Assolutamente Come i call center Che puntano tutto Ormai sul plagio Di persone Manipolabili La maggioranza Purtroppo Lavorano proprio Sull'incessantismo Cioè ti chiamano Finché Ti rompono talmente Tanto il cazzo Che arriva L'esasperazione E per quanto riguarda Le cassette della posta Il dramma Perché Avendo io Una Una casa Che non è un condominio Quindi ho la mia Cassetta postale È il disastro Cioè vuol dire Che ogni giorno C'ho proprio blocchi interi De pubblicità Supermercati Volantini di ogni tipo E mi sbattono là dentro In quella cazzo Di casella Ti giuro Sì un nervoso Perché poi Devo andare a buttare io Devo buttare Chili di carta Mancome pagano Chili di carta inutili Cioè è una cosa allucinante Come hanno detto Si basano Sul Sul lavorare Su persone Facilmente manipolabili Tramite L'incessante Spam Di Appunto Di Di alcuni messaggi Dei marketing aggressivi Hanno detto Come gli streamer In effetti è vero Noi inquiniamo Vero Non inquiniamo Al massimo Un inquinamento acustico Al massimo Ci può stare Comunque Ricorda L'uomo che Spinge il masso Sulla collina Gli casca sempre Nel purgatorio Sì 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 È un eterno loop C'è anche gente Che lo fa Off social Capito È quella la cosa Lui è manifesto Perché appunto Vanitoso Credo E appunto Si è mostrato Ha fatto molti passi falsi No Invece c'è gente Invece c'è gente Che lo fa Nell'ombra Capito Quindi non è un caso Secondo me Sì sì È un tipo Di mentalità Vogliamo dire All'italiana No Non credo È un tipo Di mentalità Di Voglio Fai soldi Facili Credo Banalmente È quello Voglio trovare Il modo Perché mi sento Intelligente Di Di Campare Una vita Idilliaca Che magari Ho visto Da qualcun altro Però per lui Se fonde Ha una Volontà Continua Ed estrema Di ricevere Approvazione Affetto Conferme Perché se ci pensi Questa figura Del Come ti posso dire Del Del truffatore Seriale da film Esiste nella vita Reale Ma di solito È gente Che non ha Un'identità O ce n'ha mille Cambia aspetto Cambia Città Quindi Punta Fai soldi Ma non punta Che tutti lo riconoscano È un problema Se tutti lo riconoscono Certo È per questo Il fallimento Della sua azienda È quello che diceva Simone sulla vanità Sta qua la contraddizione Capito Perché è un lavoro Che puoi fare Rimanendo magari Nell'ombra Ma nel momento In cui vuoi anche Farti volere bene È un controsenso Capito E lui è un Seppellini proprio Ti ricordate Abbiamo visto Tutta la sua europea Ha cambiato cento nomi Cambiava posto Dove stava Cambiava Collaboratori Cambiava aspetto Fisico Occhiali Ci sono poche foto Di voi Poche informazioni Infatti chi fallisce Prima degli altri Sono i vanitosi Scarcella Saba Riccardo Cioè gente che A un certo punto Non ce la fa più E va oltre Cioè capito Pure Scarcella Deve andare a Harvard Cioè cose facilmente Sgamabili No pure Millantare Clienti Che non sono tuoi A proposito di questo Un noto marchio Verso la LR Digital Marketing Un party privato Segreto Liccardone Spesso Ho detto Ma tu conosci un certo Liccardo Rosario Perché si ricordava Del fatto che Mi aveva visto Nelle live Le prime live E ho fatto Sì Guarda ma Secondo te è affidabile A livello di pagamento Perché mi è stato proposto Questo secret party Faranno a Milano Quindi c'è un DJ set C'è un DJ set Dice A me mi posso fidare Questa persona che ho fatto Guarda fatte pagare in anticipo E la cosa assurda Gli è stato richiesto È che praticamente Lui dovrà suonare A oltranza La stessa canzone Tutto il party Infection Sempre quella 5 ore di party DJ set E suonare sempre Infection Lavoro facile insomma Eh però Deve mixare Deve essere C'è varie variazioni Sul tema Ma pure le villain song No 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 Farà soltanto La versione original Per 5 ore Tutta Sempre ogni volta in loop Lui la mixerà Entrata uscita De traccia Divertimento assicurato Sì sì I primi 20 minuti Magari sì Dopo un po' Diventa tipo A me non stanca mai Sinceramente Non so voi Tutti a fare tipo La Mr. X dance Quella che faceva Sì Lui faceva pure così Tipo Mamma mia Allora Allora Questo invece È un estratto Della Sua live Su Twitch Di ieri Ovviamente Ripeto Nel tutto il discorso L'abbiamo fatto È un po' Il trucchetto Diciamo Della Marvel E della DC Cioè tu vedi Un Michael Keaton Ormai non in condizione Di fare ancora Batman Però tu lo vedi là Col costume De Batman Te ricorda Gli anni 90 De Tim Barton E dici Porca droga Il film di Flash Sarà una merda Però L'emozione dentro di me C'è Questa non la si può negare Birdman infatti Parla anche di questo Quindi Ve dico la verità Quando ho visto Sta scena ieri Con lo sguardino In cam E l'occhiale tolto Alla Blues Brothers Ho avuto Delle sensazioni forti Poi subentra La razionalità E dici ok Stacchiamo L'operato Professionale Dal divertimento Però qua Dirà anche delle cose Proprio in relazione Ai suoi percorsi Quindi Ripeto Anche qua Accumuliamo il materiale E Ci risentiremo poi Nei prossimi mesi Ah perché qua Dà delusitazioni Anche sui percorsi Dice delle cose Insomma E quindi Noi intanto Mettiamo tutto In cascina Poi ripeto Abbiamo fatto Ste due live e mezzo In relazione al suo ritorno Ma Salvo Eventi eccezionali Ne riparleremo Poi con più materiale Che poi adesso Sarà l'aggiornamento Just Vexor Che scrive Si è evoluto Si è quello che vuole Far passare Che è un nuovo capitolo È rinato Come un film Della Marvel Che annuncia un sequel Dove il protagonista Ora è una persona diversa Beh rega ma anche Dragon Ball No Freezer Che torna in 70 forme diverse Tipo Versione androide Cold in black Esatto Poi una certa Segui c'è a cacarcazzo Quando è all'ottava forma Esatto Quindi Ma nella narrativa Si può fare Si deve fare Perché dà molto spazio A nuove storie Cioè fare una sorta di reset Cioè quello è una cosa utile Nel mondo della fantasia Sì sì Anche là Nel mondo reale Quello è il problema Vero Anche nella fantasia Come diceva Dave C'è un limite È quello che diciamo Spesso proprio sui prodotti Ecco tipo Ormai mainstream Che fanno l'ennesimo reboot L'ennesimo remake Il sequel Il sequel Il numero 14.000 Cioè che là è proprio Sfruttamento In qualcosa Che ormai ha dato già tutto Cerchi di cambiare carte Ma è semplicemente Giocare sulla pigrizia Dello spettatore No? Però Al di là di questo Ripeto Non faremo un aggiornamento Giornaliero Sull'Iccardo Questo Era semplicemente Perché sono stati Questi due giorni Di rientro Le informazioni sono state tantissime Quindi una live sarebbe stato Impossibile concentrarle Da oggi in poi Le accumuliamo Nelle cartelline E poi Quando verrà fuori qualcosa Effettivamente Comincerà ad operare Si chiederà conto All'Iccardone Di far vedere Eventuali contratti Partite IVA Si verificheranno queste cose Perché Al netto delle risate Poi Non si può manco Passare messaggio Che se sei simpatico Puoi chiedere Sordi così Senza un cazzo Perché Fa anche parte Insomma Di quello che facciamo Come streamer Sì Ah beh Quello è un altro discorso Vediamo Lui come personaggio Arto piccolo appunto Mi è piaciuto il paragone Con Dragon Ball Perché Apposta In mente subito Che ne so Black Freezer Gordon Freezer Perché la gente Si è molto scagliato Contro questi ritorni De Freezer E l'hanno criticato molto E perché la gente Se ne è presa pure Col Super Saiyan Blue E non se la prese Col Super Saiyan 3 Era comunque 1, 2, 3 Sia beh Aggiungi il numero Più potente Però Super Saiyan 3 Era bellissimo Perché era completamente diverso Era un'immagine nuova Doveva esserci solo Il Super Saiyan Inizialmente Non c'era neanche il 2 Il Super Saiyan 2 Ha fatto Vabbè Ma è uguale C'ha laura più potente Questo è figo Super Saiyan Blue Se sono lamentati Perché vabbè È uguale Ma c'ha i capelli blu È un po' questo Il problema Dell'incarno È 4 Vabbè Non è canoni Non è canoni con GT GT sì 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 Però pure il 4 Era abbastanza diverso Ma il 3 Secondo me era diverso Era diverso anche Per un altro motivo Che il 3 In teoria Però non ho seguito I sviluppi Cominciavo a modificare Anche un po' La tua mente Cioè mi ricordo che No Però Goku Aveva un grosso risucchio D'energia E quindi era impossibile Mantenerlo per un tempo Come il Kaioken Esteso Era il 4 Che diventava un po' scimmia No 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 È perfettamente razionale Però io mi ricordo Che il 3 Dava pure un po' De cattiveria Quasi a Goku No È un aspetto Era un cazzato nero Cioè un aspetto Infatti Gli se levano le sopracciglia La fronte anche Gotenks Quando diventa Super Saiyan E dice Mi dà fastidio Sta forma Perché io voglio Essere un eroe E sta forma Mi fa venire La faccia da cattivo E quindi Non so Credibile come eroe Però sì Gotenks Perse lo scontro Con Majin Buu Per vanità Perché lui in realtà Lo sconfisse Con il super ghost Kamikaze attack Era potentissimo Gotenks Nella stanza D'ospirite del tempo Vince contro Majin Buu Ma Stupidamente Si cominciò a vantare Ah io ho fatto il culo Perché poi Erano due bambini Erano Trunks e Gotenks E in realtà Non eliminarono Tutti i pezzetti Ma li bruciarono solo Ma lo ricordo ancora Con Junior E lui se li mangia E diventa Super Lui A un certo punto Sì pure Gotenks Li assorbe Sì E poi c'era la cosa Fighissima Che lui comincia A assorbirli E poi fa anche Un downgrade Perché magari Scade il tempo Della fusione Quando scade il tempo Della fusione Molto figo Però ricordo Sta cosa Diventa con L'outfit di Junior Quando scade La fusione Perché aveva assorbito Prima Lui assorbe Junior E Gotenks Insieme Mi sa di sì Quindi diventa Tipo super potente C'ha sia le mosse De Junior Che di Gotenks Poi scade la fusione Diventa come Junior E' un po' debole Pia le botte E poi assorbe Gohan Gohan E diventa Potentissimo Sì E poi lo battono Con la fusione Vegeta Goku No Sì E poi Con Kokotara Ah no Poi scusa Mr. Satan Che incita il mondo Per la sfera Genkidama Per la forma finale Quella è Cell La cosa di Vegeta Come no 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 Quella è Cell No no Il finale di Dragon Ball Z È Goku Che fa la Genkidama Più potente Di sempre Contro Kid Buu Male puro Sì E Satan Che incita Tutta la popolazione Mondiale A dare energia A Goku Ah è vero Cell lo batte Gohan Cell lo batte Gohan Sì sì L'interessante è Veggetto Che poteva battere Poteva ammazzare Tranquillamente Anche il Machin Buu Potenziato Con Gohan Dentro Però siccome Gohan Aga Yoshin Tra l'altro Vogliono però provare Un metodo Per salvare Quelli che sono già stati fusi Si fanno assorbire Di proposito Per andare dentro il corpo Dentro il corpo Sì sì è vero È vero Che poi pure Gohan Era fortissimo Perché era Gohan Potenziato dall'anziano Sì 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 Col potere Sì sì Lui diventa Kid Buu Quando gli staccano Tutti gli embrioni Della gente assorbita Esatto E tipo Si separa E trovano anche Il Buu grasso Sì Lui si separa E diventa Sì Spona il Buu Buono Di bontà E il Buu Quello grigio Tutto grigio Sì E poi che succede Quello grigio Mangia quello buono E diventa Kid Buu No praticamente all'inizio Quando viene ucciso Il cane Di Di Mr. Satan Sì Lui ha un attacco di rabbia Che viene ucciso Da un popolano Gli spara Gli spara Gli spara Ha un accesso Di rabbia incredibile E Sputa fuori Sotto forma di fumo Il Machinbu magro Che era l'essenza Della sua cattiveria Il male E questo qua cosa fa Lotta con Machinbu grasso Lo trasforma in cioccolato E lo mangia E diventa Kid Buu E da lì diventa No il Buu Quello Ah il seconda forma Quello seconda forma Poi da lì comincia a assorbire Tutta la gente E poi quando gli tolgono Il Machinbu grasso Veggetto taglia i cordoni Col Machinbu grasso Che sta dentro Tutti levano Rimane solo lui Che era il Buu grasso E poi diventa Kid Buu Che è la prima forma Creata dal padre di Babidi Sì esatto Quella che poi era stata Imprigionata Dai Kaioshin Dai Kaioshin Era la forma Unchained Quella più selvaggia Che non parlava Neanche più Kid Buu Era tipo una bestia Sì esatto Era proprio la forma Base Che poi è assurdo Perché in realtà Tu dici Gli elevi tutto sto potere Dovrebbe essere meno forte Però in realtà Torno al discorso di ieri Era più bestiale Primordiale Esatto Era meno Diciamo intelligente Faceva meno mosse Tipo così Però Sì Tipo meno skill Di strategia Di battaglia Però tipo Inarrestabile E la scena più bella Secondo me È quando L'anziano Kaioshin Si uccide Per dare il potere A Gohan E tutti fanno No cazzo Mi ha donato Il suo potere Adesso io devo farlo E poi Riemerge solo Con l'aureola Sopra E stavo già Ciao ragazzi È un'autocritica È bellissimo Bravo Quella geniale Non c'ha più nessun valore Geniale E ormai stavano nel regno Il libero uranio Comunque Sanno sempre a che fai Esatto Bellissimo Ma non parlate di Riccardo Quello che stiamo facendo Let's go Ovviamente qualcuno Si è accorto che ha un mantello Ma mi posso Fatti tipo da Nora La prima persona Ha detto Ma devi fare un mantello Ok A proposito De Kaioshin Dragon Ball Sapete quello che facciamo qua A telecamere spente Poi la tavola witch L'avevi vista una volta C'è un atto rituale C'è un atto rituale C'è un atto rituale Tutti i mantelli Delle candele Certi rituali Su Montemagno E company Let's go Sul drop Guarda in macchina Pagd Grazie Eddie 10 abbonamenti grazie 800 spettatori senza avvisare nessuno Come fai a non fidarti Esatto Grazie a tutte le 800 persone connesse Dopo 6 mesi sul canale Twitch di Riccardo Rosatino Bassoria Signori benvenuti in questa live Buonasera a tutti Ho delle cose molto importanti da capire Ho delle verità molto importanti da dire Ho delle verità molto scomode da dire Adesso risetto quanto è contento sotto sotto Quando vede 800 persone La gioia È contento secondo me più di questo che di tutta la cosa Assolutamente sì Assolutamente sì Ovvio Secondo me Per lui questo sarebbe una retribuzione sufficiente Gli basterebbe questo Sì però la cosa assoluta È questa Che però poi Non è che dice allora faccio solo il trattenitore Comunque Devo ritornare come social media manager serio Con percorsi Sai perché credo che gli serva Una sorta di maschera Te la butto là Perché Non lo so Perché Gli avevamo pure detto Ma perché non vai in giro Semplicemente a fare hearle Essendote te stesso Cioè alla fine C'è potenziale Che comunque Pure un cojone può fare un streamer Ormai l'abbiamo capito E lui è molto più bravo Del 90% dei nostri colleghi A farlo tra l'altro Perché invece deve fare Eh pare che L'ha fatto per un periodo Però Come abbiamo detto prima Ci sono state dinamiche del cazzo Anche per colpe sue Poi c'è stata la vicenda Non ce lo dimentichiamo Pare che si debba dare un tono Come uomo Imprenditore Di successo E non riesca A lasciare andare sta cosa Sì ma ricordiamoci Una cosa importante ragazzi Ci fu anche una vicenda Molto importante Che ruppe Anche il nostro Idillio Con lui Cioè il nostro Vabbè ormai sta a fare solo streamer Ok Hai chiesto scusa Eh la questione di donazioni Eh Ragazzi Perché poi ovviamente Se quello diventa il tuo lavoro Esattamente come per altri personaggi Alcuni se ne sono andati Altri no Entri in dinamiche Complesse Che conosce bene Chi fa questo lavoro Bene Comunque vabbè Senza ritornarci tanto Lo sappiamo Grazie a tutti Per essere qui Grazie a tutti Per avermi aspettato Grazie a tutti Di vero cuore Per avermi aspettato Capito E voluto bene Grazie a tutti Per le sub Grazie a tutti Per i bit Grazie a tutti Per le donazioni Che ci saranno Ci sono state In questa live In questa live Ipetrain Nivello 18 Grazie Mimmo Un bacio Un abbraccio Un saluto A tutta la famiglia Ancora Mimmo Lo sapete Un bacio Un abbraccio A Jody A Mimmo Al Chiaro Per sei mesi Ma dovevo Creare Lavorare Capire Riposare Prendermi cura di me Di cose importanti Un abbraccio Un bacio A Twitch E ai signori di Twitch Che ovviamente amo E sempre sarà così E noi sempre ameremo E rispetteremo E mi distacco E mi socio Ovviamente Da qualsiasi cosa Possa mai andare Contro I signori di Twitch Siamo pronti Per iniziare A questa live Siete pronti A delle cose Che vi sto per dire Che sono A dir poco Grandiose La LR Vigita Maggi Cos'è? Che ride pure a lui Che ride pure a lui Che sguardo parla più De mille parole Che sguardo da ride Si è coperto Proprio la bocca Si 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 Guarda il teleco Rivediamo Che lo sguardo È bellissimo A dir poco Grandiose La LR Vigita Maggi Cos'è? Ne avrete sentito Parlare In tanti Da ieri Ho il mio Instagram E tutti i miei Social In base Di messaggi E di richieste E vi devo Delle spiegazioni Ho atteso Ho aspettato Per dirvi tante cose In questo periodo Mi hanno contattato Grazie a tutti Per gli auguri Oggi compio 33 anni Sì Il mio compleanno In questo periodo Di mia assenza Novecento persone Signori facciamo uno screen Così Quelli sono nove Grazie Vi voglio bene In questo periodo Che ho dovuto Aspettare Ho dovuto Ripeto E sottolineo Ho dovuto Aspettare Per ritornare E sia chiaro Mai più Andrò via Dai social Attenzione Eh Dicharazione pesante Mai più Andrò via Aspettare Perché Ci sono state Delle cose Importantissime Fondamentali Fondamentali Di tale importanza Che dovevo fare Prima Di tutto ciò Ok Cose importantissime Facciamo passare La voce Perché si mette Ma hai fatto testo montaggio No 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 È un video Credo lo spero Freebooting Freebooting Sì sì Cioè fantastico Pure il fatto Che si Metta e levi Costantemente Compulsivamente Questi occhiali Secondo me si sta sentendo Tipo Robert De Niro Al Pacino Sembra che abbia Pensato Tanto ad una costruzione A un castello di carte E ora è molto confident Che non crollerà È sempre lo stesso L'approccio Certo Cioè lui anche a livello Di immagini Di metodo di comunicazione È sempre lui che si mette Con questa faccia Di tre quarti È la stessa da sempre Per questo Dico Golden Freezer Perché se torna Che ne so Rasato è un pentazero Tipo alla Montemagno E ti parlava In un modo diverso Transformista Ma è sempre uguale C'è un po' De barbetta in più Però Ce l'ha avuta Già Non così tanto Questa è più che vedo Da Sta barbetta Sparviera Sì 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 Da uomo vissuto Sì 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 E Cazzo stava di Non mi ricordo Vabbè Sono stato contattato Da tante persone Che volevano supportarmi Che volevano Aiutarmi Che volevano Collaborare con me Perché sei mesi fa Ero in una situazione Brutta Ero da solo Ero all'estero Non avevo nulla Cosa è successo? Mi sono rimboccato le maniche E insieme ad altri Imprenditori E Sottolineo Tra i più grandi Strategi Professionisti Imprenditori E social manager Dalla mia idea E dalla mia Persona Io ceo E Tutti loro Dietro di me Ad invogliarmi E soprattutto A supportarmi E' nata La LR Dilla Quindi questa è la prima informazione Si ritorna al team Quindi l'ipotesi che avevamo fatto Dice che dei grandi imprenditori Grandi social media manager Hanno creduto in lui E hanno creduto nella sua visione Nel suo progetto E gli hanno permesso Di avere Ora questa digital Ma che differisce Dalla prima versione In cui lui era il grande social media manager E aveva dei sottoposti Adesso è il frontman Mo si Mo ha detto che ho delle persone più potenti Capito no? E' diverso dalla prima Perché il discorso è Comunque dice Loro Mi hanno E poi questa è la cosa Diciamo prima Secondo me Ti ricordi Quando diciamo C'ha tutte persone Che lo fomentano Lo trollano E dico No ma tu sei il migliore Fagliela vedere a tutti Volendo il suo male Piuttosto che il suo bene Perché gli parlano Cercando di farlo mettere in ridicolo Facendo magari finti amici Lui ha detto Adesso ho persone Che lavoreranno per me Io ceo Quindi nel senso Non so persone più potenti Io ceo Io ceo Io ceo So persone che hanno deciso Che credono così tanto Nel suo progetto Che si sottopongono a lui Si mettono come sottoposti Lui è capo E loro saranno i collaboratori Che svolgeranno le attività Cioè Secondo me Chiara Ferragni Sì sì Lui fa intendere Che comunque ora Sta collaborando Con gente Molto più esperta di lui Sì Da quello che Che ho evinto Capito? Sì All'inizio La versione era Che lui era numero uno In Italia E faceva tutto da solo Con un team Con un team Di segretario Quello che erano Le famose discordate Pure famose Che uscivano su YouTube Lui c'aveva Intorno a sé Delle persone Che comunque C'avevano qualche competenza C'era sempre la cosa Ti aiuto io col MERS Io te faccio il MERS Io te Te li faccio il logo Io te li faccio la grafica E gente Anche che Alcuni anche in buona fede Che dicevano Guarda Sta cosa che la chiede Sono le grafiche del MERS Te li faccio io gratis Non ti preoccupare Che magari Lo vogliono veramente aiutare Però in mezzo Stanno anche tanta gente Te lo trovo là Ovviamente Ma è mai uscito sto MERS MERS è il MERS Eh sì Ma è mai uscito? Mi sa De no Mi sa No C'erano delle grafiche Però non è mai stato Io l'avrei comprato subito Per esempio Con due Cioè Per esempio Potremmo proporre Non era l'ultimo Crikis Ce ne sono altri due Ah sì Lo vedi che è infinito Dai Ieri era finito palesemente Quel pacco Qualcuno ha rimesso due Crikis Regà Sono crackers infiniti Io ho detto Non è Due sono diventati Manco uno Non è possibile Possiamo sfumare l'Africa Sì O forse no C'è Non so Merita Ma C'è Con questa non è la decisione È già così Potremmo ma non lo facciamo In realtà sì Il mondo che ragiona così Inconsapevolmente E consapevolmente Sì vabbè Ho già detto altre cose Su vacchi C'era Però ad esempio Potremmo proporre Questa partnership Alla LR Digital Marketing Cioè Noi vendiamo Il merch Online Ai parti Con la tua faccia O con i tuoi meme O che ci trova ospiti Come dice lui Assurdi Per intervistarli Cioè Noi comunque Siamo il cebro Siamo una realtà Autoprodotta Tipo Intervista a cabi Eh Cioè Starebbe Cioè Noi riusciamo ad intervistare Le persone alle quali In qualche modo Riusciamo ad arrivare Non è che siamo Dio in terra Ci servirebbe un'agenzia Che ci fa intervistare Barack Obama Capito Osama Bin Laden Forse Quello Forse è ancora vivo In realtà Sicuramente è vivo Sicuramente è vivo Adesso puntiamo al sole Michael Jackson Michael Jackson Elvis Presley Cosa Cosa farò Cosa posso fare Per tutte le persone Che Mi seguono E che mi conoscono Dal 2019 Come Il social media manager Più discusso Più influente Più noto d'Italia Parte pure sta cosa È 2020 Il cane Non è 2019 Perché insiste Cioè 2020 Sono le live storiche Della caverna In cui sei diventato noto Poi prima Sì Altre cose Riviste Le inserzioni De riscrivere Un po' La storia Sì Non è quello Però Comunque era 2020 Come stamattina Nel senso Lui Già si definiva noto E quindi Ma non lo era però Non cambia È lui che lo dice La sua narrazione Sì ma Nel 2020 Sarebbe vero Sì ma non era vero All'epoca Nel 2020 Cioè se lui si definisse Un personaggio Ultra noto Sul web Dal 2020 Sarebbe vero Sì ma lui Ha ritrattato tante volte Visto sulla cosa Dei cecchi paone Poi dopo le live Con voi In molteplici live Lui ha detto Vabbè sì Io lo ammetto Non ero competente Non sono mai stato Un bravo Solo del media manager Dopodiché In live sui personali Questa roba L'ha ritrattata più volte Ho detto No no ma io Comunque i risultati Li portavo Sono stato Prima del cerbero Già comunque Io ho fatto ottenere Risultati A tante persone Quindi lui La ritratta spesso Sta usando Tutto il casino Che è successo Lo vuole usare Come diciamo Punto a suo favore Semplicemente Definendosi Discusso Capisci Cioè basta dire Sì Mi hanno discusso Però capisci Non è la realtà Sì sì Gli articoli presi Sui giornali L'hanno messo pure Uno l'altro giorno Contro Fedez E la Ferrani Come ho già spiegato Su Instagram Come tutti gli altri Social Il nuovo Instagram Privato Che ora L'ho reso pubblico Riccardo LR Digital Marketing Nome E LR Digital Marketing Il contatto Dell'agenzia Cosa possiamo fare Per tutte le persone Che ci seguono Cosa possiamo fare Per tutte le persone Che ci seguono Eh Tutto Ragazzi Tutto Ci siamo messi Tutte le persone Più influenti Più grandi Che io abbia mai conosciuto Non per essere Megalato Questo si può dire Perfetto Che io abbia mai conosciuto A parte Non è vero Perché Ma dove sono queste persone Cioè c'è una congrega segreta E perché non sono stato invitato C'è una tavola rotonda Ci ha tolto dall'equazione Ci ha tolto dall'equazione Così tanti più importanti C'è posta C'è posta Elon Musk C'è posta Che io abbia mai conosciuto E abbiamo strutturato Questa grande idea Da un sogno Ad un progetto Insieme Abbiamo raggiunto Nel giro di 16 ore Oltre 200 contratti Firmati Firmati quindi È incredibile 200 contratti firmati In 16 ore Vabbè Pazzesco Potevate in 24 ore Mi piace 16 ore È bello Perché è più credibile Ma contratti De che? Contratti Contratti E di questo ringrazio Esatto Sono contratti Persone che si sono Affidate a me Tutte le persone Che continuano Affidarsi a me Io ho un'idea Non posso sbagliare Perché sono così Osservato Così Sott'occhio Da tutti Che non posso sbagliare E non sbaglierò Ma questa cosa Già l'aveva giocata Però sta carta Sulla roba De carte poche Ma pure sull'altro Scandalo Che tra l'altro Cioè del quale Sono venuta a conoscenza Ieri Su quel morbo Raccolte fondi Cripto investimenti Cioè nel senso Già lì era Post 2020 Quindi Non è Non sarebbe una novità Però vabbè Vediamo Mai sbagliato Siamo completamente Al 100% Senza Un Intoppo Zero Eh vabbè Cristo Ma cosa può fare La LR Dice da madre Per tutte le persone Che mi seguono Con affetto Che mi hanno conosciuto Mi conoscono Mi conosceranno Tutto Da cartelloni Pubblicitari Tutte varie Crescita Veale Su tutti i vostri Social Provini Assiste Ma che ha scritto Lickard in chat Dai Giochiamo Eh non ho letto Giochiamo un po' Copiate un po' Giochiamo un po' Vediamo Vediamo Ma Vigenese pinna Da solo i suoi stessi messaggi E non pinna quello A patto che sia lui Ripeto Perché io Adesso non so Quale sia il suo vero account Perché ne hanno creati Pure molti finti Ah eccolo qua Ah ecco Vi aspetta con piacere E guarda Riccardo Io sarei quasi tentato Di fare una prova con te Sarei quasi tentato A noi ci interessano I seguenti servizi Allora Sponsor Quindi Personaggi importanti Sì Tu ci trovi degli sponsor E te prendi una percentuale Come società Personaggi importanti Da intervistare E forse questo Per il momento Dai Non è una camicia Hawaiiana È una camicia Tipo tutta Tipo street Capito Tipo writer Esatto Sì Hip hop Sì Anche un location manager Per i party E per gli eventi Event planner Esatto Tipo location di Cristo A prezzi convenienti In situazioni particolari Non l'hai elencato Riccardo Vi occupate anche di questo? Quindi Event planning Quello ci verrebbe molto comodo In effetti Ma pure wedding planner? Volendo 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 Che ne so Qualcuno ci vuole invitare a matrimonio Andiamo là Fammi i coglioni Se fa anche da Don Liccardo Cioè che fa anche È un servizio Tipo che ti sposa Da Las Vegas Sì sì Col colletto Bellissimo Poi a me servire Be anche E non so se questo È previsto dall'azienda Controllo password E autenticazione Due fattori Sono tutti i miei social Vabbè quella Quella è Quella è Quella non ho capito come si fa Guarda Quello penso che sì Penso che sì Quindi Guarda A parte scherzi Adesso Riccardo Ci riflettiamo un attimo E vediamo Vediamo Magari facciamo una prova Che ne so De qualche mese Ho un contratto Io lo firmerei È ovvio Contratto Facciamo una prova Se già hanno firmato In 500 Sono stupido Che non Non lo faccio Ecco vedi Ci organizziamo in privato Va bene Va bene Va bene Ma ci riflettiamo un attimo Parlando anche con Gianluca E Marco Soprattutto Gianluca Che è il CEO Ovviamente lui Prende le decisioni finali Saprovini televisivi Articoli di giornale Ogni cosa possibile Immaginabile Che voi possiate mai immaginare La LR dice da un martedì Verificato Lo fa Lo può fare Io ci sto mettendo la faccia Lo dico pubblicamente In live L'ho detto sul mio Instagram Nelle mie storie Nelle mie post E così sarà E così Sarà Io non sono qui Per invogliarmi A scrivermi Se è chiaro ragazzi Io sono qui Per dirvi tutta la verità Su quello che ho fatto In questi mesi Su quello che ho creato Su quello che abbiamo creato Ok Non vi nascondo Che sono Felicissimo Di tutta questa scelta Di tutta questa attesa Che mi ha portato Ad avere Questo Che ho ora E vi dico Vi dico una cosa grande Importante Stiamo Andando Verso Cabi Che t'avevo detto Eh concettualmente Dai Cioè nel senso Stiamo andando Verso Cabi Ecco per esempio Un'intervista a Cabi Riccardo potrebbe farci comodo Dove vive Cabi Milano forse Ah quindi sta andando a Milano Stando verso di Lune Sì verso dove abita Cabi No lui dice Secondo me è puntare A diventare come Cabi Potenti quanto Cabi Stiamo andando in quella direzione Forse Torino È vero Forse Torino Vogliamo andare Verso Cabi Ed è solo Il fottuto Inizio Eh c'è ragione È vago Potrebbe essere Come aspirazione O come effettivo cliente Ma chi era Che diceva Verso l'infinito e oltre Buzz Lightyear Eh che andava Oltre l'infinito Non si può andare Oltre l'infinito È un modo di D Verso Verso l'infinito Vabbè Qualsiasi direzione È verso l'infinito E poi non è che vai oltre È un modo di D È un concetto C'è posta C'è posta C'è posta Tengo a rispondere A tutte le persone Che mi seguono Cabirbeti Mi criticheranno Mi giuderanno Perché ci saranno Tantissime persone Che lo faranno Prima di giudicare Allora Io sto bevendo Questo Io vedo questo Dico ok Questo è un aspetto È ottimo Vediamo No ma Mi hanno parlato Però Che in questo bar Non è una grande cosa No Io mi siedo Provo È buono Non è buono Quindi Sta dicendo Se tu vuoi vedere L'effettiva qualità Di un servizio Di qualcuno Devi provarlo È stato provato Vabbè Però Riproviamo Magari cambia Gestione Il bar Io do un consiglio Ufficiale All'Iccardo Questo è un consiglio Reale Ad oggi Hai un modo Purtroppo Per provare L'efficienza Ai tuoi servizi Persone Che non stanno Nella stessa situazione Di Avvenimenti Negli anni Sul web Non hanno Questo step Da fare Però un modo Secondo me Molto safe Per dimostrare Quanto vali È Far stipulare Le persone Un contratto In cui Loro Si vincolano All'ottenimento Di certi risultati Come fanno I bonus Dei cartellini Per quando Acquistano i calciatori Ok Le do 5 milioni adesso Più altri 5 Che ne so Se raggiungo il primo posto Se vado in Champions Se fai tot goal Tu fai Ok Contratti gratuiti In cui Allo sblocco Di alcuni step Di risultati Che tu gli fai ottenere Loro sono vincolati A pagarti una certa somma E con questo Nessuno De può di niente C'è sta C'è sta Sempre poi che il pagamento Sia legale C'è la tua fattura Chiaro Riccardo ci sta mettendo La faccia Dal 2019 Sulla bocca Di tutta Italia Sono qui A dirvi E a giurarvi Vedi accettato il tuo consiglio Scrive Grazie amico mio Grazie amico mio Ci sta Mio padre E a dirlo Davanti a 900 persone Che a tutti I miei clienti I nostri clienti Tutti Chiunque Si è affidato Si affida Si affiderà A noi Lo giuro Sulla cosa più cara Che ho Sulla faccia della terra Chiunque Si affida Si affiderà Ma quale però Qual è Non ho capito Lo giuro sulla cosa Sulla faccia della terra Ha detto No Ha detto lo giuro sulla cosa più cara che ho Quale E' la che il giuramento è Vabbè lo sa lui Il giuramento Si basa Quante volte ha messo in mezzo la madre Lo giuro su mia madre Non dice una parola Si si Che poi appunto Cioè come posso dire A noi Se io voglio andare a prendere un cocktail in un bar Non è che quello mi giura su sua madre Capisci E' una tattica Che mi fa un po' storce il naso Magari dovrebbe Modificarlo Ma lo dico a livello di marketing Con un consiglio di comunicazione Sembra un po' una disperation Morisse mia madre Ora Ma poi capito E' una roba Non è funzionale E' inefficace Perché altrimenti Io ho il superpotere Tipo il death note Per uccidere chiunque E giuro su di te Che adesso Mi faccio riusci i capelli Tu Mori Non funziona L'ultima citazione non era di Riccardo Se ci stai ascoltando Non era tua Lighi Che sia una settimana Che sia una prova Che sia un mese Che sia un anno Contratto Qualsiasi cosa Tutto nella regola Al cento per cento Ovviamente Lo giuro Se non vi faccio guadagnare Porco giuda Soldi E fama Giudo tutto E rimborso Il doppio A tutti Grazie Il problema Secondo me E' che anche lui Vuole fare ste cose Cioè se lo sta pure A di un po' A se stesso Soldi e fama E' quello Dice che un po' C'è crede Sì Lo sta dicendo Giuro Cioè pure Applicandolo a se stesso Se con questa Se questa volta Non riesco a ottenere Soldi e fama Ho capito Ma secondo me Lui ci crede Per i suoi clienti Di essere in grado Di farlo Sì Secondo me sì 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 Infatti c'è Il problema E' che Uno deve pagare Secondo me Prova a farlo gratis Con qualcuno E dimostra Le tue abilità Cioè come dire Come uno arriva E dice Sono il più grande Palleggiatore A palleggiare la palla Del mondo Però Me devi pagare Per poterlo vedere Per la dimostrazione Ma fammi un attimo Vedere a gratis Un attimo No cioè Fammi un attimo Vedere Prima che io Mi affidi a te Vedi però The Black Dice comunque Secondo me Dietro tutta Stasera c'è Qualcun altro Eh ma è una teoria Che sta circolando Un po' E lui stesso La sta supportando Ha detto lui Persone potenti Grandi imprenditori E social media manager Ma infatti Io sono più interessato A questa cosa A capire Se effettivamente Questa volta C'è qualcun altro Per questa nuova scesa In campo Non lo so Non si può mai sapere Vediamo Se dovessi puntare Dei soldi Direi di no Però Noi comunque Attendiamo In chat Hanno avanzato Un'ipotesi Ovviamente Bellissimo Il presidente Pier Silvio Berlusconi L'altro presidente Matteo Saba Eh Sarebbe stupendo Sarebbe bellissimo Sarebbe assurdo Mattarella A questo punto Vogliamo andare Un po' più in alto Sì 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 Questa mia forza Questa mia energia Questo supporto È dato anche A una persona Per me speciale E non voglio Aggiungere altro Senza questa persona Probabilmente Io non ce l'avrei Fatta Non ce la farei E non so Se mai potrei Farcela La amo Tanto No aspetta aspetta Ma c'è un'altra mano Eh sì Ecco la sua ragazza E tra l'altro Voi non sapete chi è È una tiktoker Famosissima Ma davvero Da più di un milione Di followers Greve Buon per loro Questa persona Probabilmente io Non ce l'avrei Fatta Non ce la farei E non so Se mai potrei Farcela E La amo Tanto Mi dà soltanto Indizio Perché io lo so Chi è Perché a me Me l'hanno detto Mi hanno mandato Le foto De loro insieme Ma c'è un'altra mano Non riesco a capire Non c'è una serie a vuota Non riesco a capire Io ho avuto un video Che però Non lo posso girare a nessuno Perché è privato Di una persona Che era Presente da un tavolo vicino E gli ha fatto da fuori Questo stesso momento proprio Cioè Quello che parlava Mi dà soltanto un indizio Ah c'è Perfetto Ah no Dicono che c'è Mi dà un indizio Tanto poi Capiranno Perché fosse niente Uh Strong woman Vi dico soltanto questo È una NPC girl Così si chiama Una La O la Ah quella la Io non dico niente Uh strong woman Uh huh Let me do the cowboy Arr gang Arr Esatto Gang 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 Sta succedendo Zoomone Yes 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 Ah Nel 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 Riflesso Degli occhiali Vediamo Proviamo a farlo spostare Un po' Vediamo se ci sono C'è qualcosa però Vediamo un po' No non è là Ah sì non è là Scusami vai 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 Eh certo l'occhiale Vai un po' indietro Sembra Forse sì L'amo Ma non c'è niente Sta guarda verso l'alto Ma è tutto fermo capito Ah no Oddio è strano Io vedo un riflesso più chiaro nella lente destra Che potrebbero essere dei capelli di una persona Biondi Biondi esatto Cazzo bucalalla No non è biondi L'amo Tanto Vedi Eh sì Ah sì 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 C'è qualcuno ragazzi C'è qualcuno C'è qualcuno Allora questa cosa Già aumenta La credibilità di Riccardo Del 35% Ma il fatto che a una persona accanto Lo rende umano Sì Assolutamente sì Mi fido al 100.000% No no Oddio mio Ma perché Dovevi solo prendere Cliccaci e trascinalo Eh Ok Mamma mia Ma quando imparerò a fare questo Lavoro Non devi Davide Non devi Eh lo so Anche se un po' mi sono fatto Le vostre stigioni N'assenza del buon Chitans Però ancora sto Carissimo amico Proprio una lentezza giurassica Tipo mi nonno Capito? Ah Dai Vai Ieri ho beccato il Chitano A caso in una spiaggia In posizione fetale Quindi veramente a caso? Sì Stavo Tutto così Ho detto Ma che sta a fare? E poi abbiamo visto le stelle Dai ragazzi Abbaccollate Whatsapp Su Ah no ma ha scritto Leak Non dico nulla Vabbè vabbè Comunque L'avevamo già detto prima di questa cosa Ma non ti preoccupare Che mi devi mandare foto in privato Ma No no Leak ci ha confermato Quindi confermo Tutto vero Ragazzi Già qua partiamo molto bene È una donna Secondo me Questa volta è sincero Il contratto abbiamo già firmato Eh sì Ormai tanto il contratto Insomma sta lì Manca solo la firma di Gianluca Non posso aggiungere altro E questo per me è una cosa stupenda Spettacolare Non mi sarei mai aspettato così tante persone che mi aspettavano dopo sei mesi di assenza E poi ci sono persone che invece hanno tentato Comunque il freebooting è di Mr. Clip Non lo spero scusa Buono Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Signore di Twitch Ovviamente questo è un provino di film Io sto facendo un piccolo provino di un film Sì è chiaro E Sto andando bene? Sto andando bene ragazzi Sto andando bene? Questo provino va Scherzi a parte È tutto reale È tutto reale Anche voi mi mancavate Tutti Tutti mi siete mancati Grazie di venire a voi Vi voglio un mondo di bene ragazzi Tutti mi siete mancati Tutti 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 Famiglia e trovini Tutti Vi voglio bene È tutto pronto Grazie di venire a tutti Ah Ho notato una cosa Sapete? Ho notato una piccola cosa Osservando capi Che aveva un'impostazione di biografia Molto simile alla mia Che mi si accicchi Non svelo altro Cosa? Gli ha copiato Gli ha copiato Ha detto che Cabi Aveva un'impostazione Molto simile a quella Che lui creò per cecchi L'impostazione del profilo Quindi Secondo lui Non lo può dimostrare Ma potrebbe essere Che ha preso spunto Cabi Lame Ma palesemente Ma aggiungo un dettaglio È arrivato lì grazie a questo Forse non tutti si ricordano che Un po' di tempo fa Il manager di Cabi Era Alessandro Riggio Cecchi Paone No Alessandro Riggio Cecchi Paone Cecchi Paone No Alessandro Riggio Era il manager di Cabi Fino A un po' di tempo fa Poi è successo Un piccolo casino Che poi Insomma Non ha Avuto aggiornamenti pubblici Quindi non so come S'è andata la storia E Riggio Comparve Nella saga di Ricky Da Omietol Ma anche Mi sa Nella seconda live nostra Fece una comparsata E quindi loro già i tempi Un po' Si scornarono E quindi questa è una sorta Di rivincita No Come per dire Vedi ma in realtà Riggio ha copiato Dal numero uno Potrebbe essere Potrebbe essere Cioè potrebbe stare Dai Come Mi sa che era quella con Marco Vero Marco Merrino e Cicchi Svelo altro Ci saranno tante cose Che posso dirgli man mano Non svelo altro Non posso dir altro Sì mister clippare Beh ragazzi Più grande di tutti Poco da dire Siamo in attesa Di appunto Futuri aggiornamenti Che è una storiella De Twitch Come penso Per la maggior parte Delle persone Pure chi sta guardando Questa live La vive come Una storia È innocua Poi vediamo Che succede Cioè Esatto Perché non entriamo In campi Di un certo tipo Tra l'altro Ho letto anche in chat Ma me lo state scrivendo Pure in privato In molti Alcuni ovviamente L'hanno contattato già E già ci sono state Richieste di un certo tipo Perché c'è anche gente Che vuole ovviamente Sbugiardarlo Come ha detto prima Dei Stallare un paio I trollini Insomma Anche quelli Vanno fare tipo Una sorta di inchiesta Non mi faccio dal contratto Così poi posso dire Dove mi ha scammato Esatto Ma infatti ripeto Anche per te Riccardo Fai le cose A modino Contratti Fatture Visura camerale Partita IV Eccetera Perché Ti ripeto Come tu stesso hai detto Te sbugiardano in tre secondi Ovviamente Al momento Noi stiamo solo Accumulando informazioni Cose private Poi In caso Si faranno con un giornalista Se servirà Al momento Noi non pubbliciamo nulla Di ciò che è privato Commentiamo tutto ciò Che tu esponi pubblicamente Però Appunto dico Fai le cose fatte bene Se vuoi offrire questi servizi Anche perché Un attimo Cioè ormai la gente Come diceva pure Simone Lo sa Che È facile anche Prenderti in fallo Se non fai le cose fatte bene Quindi Insomma Mi raccomando Per adesso È una bella narrazione Il tipo Capito Fama Successo Followers C'è un uomo Che ha raggiunto tutto questo I miei contratti Fermateli Se volete Cercateli Chissà se qualcuno di voi Ci riuscirà One Piece Bravo Allora Cambiando argomento Poi chiudiamoci Vediamo alle 21 Per Cerbero Creepy Top format Il miglior format Creepy Creepy Di Twitch Italia Stasera anche Ci saranno cose pazzesche Stato apprezzando un sacco il format Noi pure Stiamo belli carichi Cioè almeno personalmente C'ho proprio voglia De venire qua Belle chiacchierate Insomma Anche di mondi esterni Questo vi giuro Vi giuro Come diceva Riccardo Vi giuro Su mia madre Che pensavo fosse Lercio Cioè ieri qualcuno Mi ha mandato degli screen De sto articolo Su Instagram Te lo giuro Io ho detto Vabbè saranno tipo Gli articoli fake Fatti a presa per il culo Simil Lercio Poi qualcuno Mi ha mandato il link Ed è un articolo vero Quindi video Ascoltiamo subito Non c'è un tasto Per lo schermo intero Vabbè facciamo No Che scambio Sei sicuro Anche sopra Devi mettere il volume Però Non c'è Vabbè lo zoomiamo noi Sì sì Vediamo così Ma poi do cazzo sta Vai O partiranno 70 pubblicità Sto dicendo caccole In questo momento Vabbè caccole Non parte Aspetta Madonna mia Oddio Oddio Vai 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 Diciamo che ovunque siate In realtà Tutte queste frammenti Che bruciano nell'atmosfera Poi rimangono A far parte dell'atmosfera E queste polveri Finiscono Ma te l'hanno chiamato Ma sta su una Su una Come si dice Una barcarola Pirata dei Caraibi Top Jack Sparrow Bellissimo Tutte queste Frammenti che bruciano Nell'atmosfera Poi rimangono A far parte dell'atmosfera E queste polveri Finiscono Insieme all'aria In quello che respiriamo E parte e rimane Bloccata nel naso Quindi la prossima volta Che trovate una caccola Ricordatevi che Un pezzo di quello È pieno in realtà Di polveri di stelle Frammenti della luna Frammenti di Marte E eccetera Questa è una cosa incredibile Commento di circostanza Aurora Ma che cazzo Ti filmato Questa è una cosa incredibile Ma la cosa assurda Che muo Al di là di tutto Io ho anche Altra polvere Comunque Nel naso Non solo tu Non solo tu La cosa divertente Sembra talco Ma non è Al di là dei meme Su Adrian Cioè La cosa divertente È che Adrian È finito Su Sky di G24 Solo per Questa affermazione Questa affermazione Da click Perché uno effettivamente Dice ma che vuol dire Polvere di stelle Nelle caccole Cioè Lui capito che Come un'ennesima Frase da approccio Faccia toccare il pezzo Luna Vuoi toccare le stelle Con un dito Mettimi un dito nel naso Ma infatti ha cambiato Metodologia d'approccio Così per farsi toccare Scaccolami Scaccolami tutto Vabbè poi l'articolo Ovviamente riporta In forma scritta Ah ecco Questo è il luogo Della perdizione di Adrian Riporta in forma scritta Quello che abbiamo ascoltato Quindi Poco da aggiungere Allora ragazzoni Noi Intanto Ci vediamo Alle 21 Con Cerbero Creepy Con un'atmosfera Di un certo tipo Luci soffuse Bubulus Se ne avete Ovviamente Legale Ci mancherebbe altro Ovviamente Anche una tisana Una bella tisana Al finocchio Una camomilla Pura Era per conciliare Il sonno Capito Oppure che ne so Di Ribes Capito Povera Ribes Posso capire Al finocchio Però Ribes Dicite no Ribes no Spero Flames Sia sempre pronto Con lo Steam Deck No Gianluca Non c'è Oggi è il suo compleanno No ha detto Non dirlo Vabbè Non è Oggi Non è il suo compleanno È il suo non compleanno Porco Dio Fa un 40 gradi Allora A Roma Si è abbassata tanto La temperatura Devo dire Che se sta bene Adesso Quindi secondo me Il riscaldamento globale È una cazzata Sta su Facebook Per chi c'è l'amico Su Facebook Eh vabbè Amico ho scammato Una cosa brutta Era per fare gli auguri Scusate Eh no c'è ragione Mi sono scordato io Vabbè Perché diceva 40 gradi Non ho capito Fa la tisana Sta di Eh sì Vabbè Ho capito Fatta la fredda La fai E dopo la metti al frigo Sì Fateli qua gli auguri Ma fateli li a lui Cioè Non c'è Non li legge Sta lì Insomma Augurio così Auguri Cerbero Eh No non rompete il cazzo A Gianluca Dai scusate Non ho fatto apposta Dai Non date me sta responsabilità Eh Basta Dai Allora Ci vediamo alle 21 Per Cerbero Creepy Poi ci vediamo lunedì Martedì no perché il 15 Quindi ci vediamo lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì E poi Stop Fino ai primi di settembre Comunque seguiteci sui nostri profili Instagram Beh ripeti un attimo Allora martedì prossimo è il 15 Quindi ci vediamo lunedì Mercoledì Giovedì E venerdì E poi direttamente a settembre E per agosto andiamo al mare Andiamo Non lo so Non credo Però comunque sia Gianluca ha detto Fermiamoci Io ascolto Gianluca Parliamo Ne parliamo Vabbè decidiamo Comunque voi state sempre connessi Tanto vi avvisiamo Ovviamente La cosa mia è che poco Non c'ho un cazzo da fare Allora sì Io se sto eh E per martedì ce sto allora C'ho un cazzo da fare Se famo la live Quella dei cosi Dei preferiresti Diciamo altra volta Eh capito Ma io ce sto per lavorare Tanto ripeto Lo so No no Non è un problema Tanto sto periodo Sto Insomma sto tranquillo Mi fa piacere E ok Comunque vi aggiorniamo Seguidici su Instagram Poi ci vediamo Al Samsara E vediamo Probabilmente faremo Una live dalla casetta Magari il giorno stesso Il giorno prima Così E poi a settembre Il giorno ufficiale Ve lo comunicheremo Dato che Vorremmo sistemare Un po' lo studio Prenderci qualche giorno Per fare delle migliorie Insomma Per ripartire Alla grande A settembre Perché non si deraglia A dopo Ciao 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 stasera ragazzi Ciao Per chi l'ha chiesto Hanno chiesto Se c'eri pure tu stasera Ah certo Certo Assolutamente sì A dopo Belli Ciao 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 Grazie.